Figurano diverse esponenti del Partito Democratico, tra le persone coinvolte nell'operazione condotta dal nucleo di polizia economica finanziaria e della Guardia di Finanza e dei poliziotti della squadra mobile di Napoli, che hanno portato all'emissione di 11 misure cautelari per i reati di concorso in corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, traffico di influenze illecite e turbata libertà degli incanti. In particolare sarebbero emerse turbative nella gara per la concessione del rione Terra di Pozzuoli, atti di corruzione per ottenere la giudicazione della gara pubblica della concessione, intermediazioni illecite sia per l'affare della conversione in struttura alberghiere del rione Terra sia per ulteriori appalti pubblici. In quattro sono stati sottoposti alla custodia in carcere, due agli arresti domiciliari, cinque all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In particolare Nicola Oddati, all'epoca dei fatti componente della direzione nazionale del PD e attuale dirigente della regione Campania, l'ex sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, già coinvolto in un'altra analoga indagine, Gregorio Palmucci, ex presidente Enite e componente della commissione valutatrice delle offerte per la giudicazione della concessione relativa a riqualificazione del rione Terra di Pozzuoli e l'imprenditore Salvatore Musella. Questi quattro sono finiti in carcere, mentre ai domiciliari Salvatore della Corte, collaboratore nipote di Musella e un suo collaboratore. Infine, fra i cinque obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, risulta anche Sebastiano Seibi Romeo, ex consigliere regionale in Calabria, candidato a segretario provinciale del PD a Reggio Calabria.